In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi. Amen. Sielo dato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. Continua la vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio Magno. Decimo episodio I tre ultimi miracoli del profeta Un giorno il venerabile padre prendeva cibo ed era già sera inoltrata. Uno dei suoi monaci, figlio di un procuratore, gli reggeva la lucerna davanti alla mensa. Mentre l'uomo di Dio mangiava, il giovane monaco, che gli stava accanto in piedi reggendo il lume, fu preso da spirito di superbia e incominciò a rimuginare in cuor suo e a dire tra sé «Chi è costui al quale io sto accanto mentre mangia, reggendogli il lume come fa un servo? E chi sono io per salvire costui?» Ma l'uomo di Dio, voltatosi all'improvviso verso di Lui, prese a rimproverarlo severamente, e disse «Fatti il segno della croce sul cuore, fratello!» Che cosa stai dicendo? «Fatti il segno della croce sul cuore!» E chiamati subito i fratelli, ingiunse che gli venisse tolta di mano la lampada. A lui poi ordinò di lasciare quel servizio e di andarsene tranquillamente a sedere. Interrogato dai fratelli su quel che avesse avuto in cuore, il monaco raccontò loro in ogni particolare quanto era montato in superbia e quali parole si andava interiormente ripetendo contro l'uomo di Dio. Tutti allora videro chiaramente che nulla poteva rimanere nascosto al venerabile Padre Benedetto. Dal momento che egli percepiva persino il suono delle parole soltanto pensate. In altro periodo di tempo sulla regione della Campania incombeva una grande carestia e tutti si trovarono in gravi difficoltà per la mancanza di viveri. Anche nel monastero di Benedetto era già venuto a mancare il grano. La riserva del pane era ormai quasi del tutto esaurita, al punto che per il pasto dei fratelli erano riusciti a trovare non più di cinque pani. Vedendo i suoi monaci rattristati, il venerabile Padre pensò di correggere con un lieve rimprovero la loro debolezza d'animo e nello stesso tempo di incoraggiarli con una promessa. Disse loro, perché vi lasciate abbattere per la scarsità del pane? «Oggi è vero, ce n'è poco, ma domani ne avrete in abbondanza». Il giorno dopo furono trovati, davanti alla porta del monastero, sacchi contenenti duecento moggi di farina. E tuttora, signora, chi sia la persona per mezzo della quale il Signore Onnipotente li aveva mandati. Ciò vedendo i fratelli resero grazie al Signore e impararono a non dubitare più dell'abbondanza nemmeno in tempo di carestia. Pietro Dimmi ti prego se lo spirito profetico dimorava costantemente nel servo di Dio. oppure se lo riempiva solo in alcuni momenti Gregorio Pietro lo spirito di profezia non illumina sempre la mente dei profeti. Infatti, come dello Spirito Santo sta scritto che soffia dove vuole, così dobbiamo anche credere che soffia quando vuole. Per questo motivo Natan, a cui Davide aveva chiesto se poteva costruire il Tempio, in un primo momento diede risposta affermativa, poi rispose invece negativamente. Ancora per questo Eliseo, vedendo la donna piangere e ignorandone la causa, disse al servo che voleva allontanarla. Lasciala stare, perché la sua anima è amareggiata, e il Signore me ne ha nascosto il motivo, non me l'ha rivelato. Nella sua immensa bontà Dio Onnipotente ha così disposto, perché donando in alcuni momenti lo spirito profetico e sottraendolo in altri, eleva a più grande altezza gli animi dei profeti, e nello stesso tempo li mantiene nell'umiltà. Infatti, quando sono illuminati dallo spirito, essi intuiscono ciò che sono per grazia di Dio, e quando invece ne sono privati, diventano più consapevoli del poco che valgono da se stessi. Pietro, le cose stanno proprio così, ed è giusto, ma ti prego, continuo a raccontarmi ciò che ricordi riguardo al venerabile Padre Benedetto. Gregorio, in altro tempo un uomo di fede lo aveva pregato di mandare alcuni suoi discepoli a costruire un monastero vicino alla città di Terracina, in un terreno di sua proprietà. Egli, accolta la proposta, scelse alcuni fratelli da inviare. Costituì un abate e designò anche il priore. Mentre partivano, fece loro una promessa dicendo «Andate pure, il tal giorno verrò io stesso a indicarvi dove dovrete costruire l'oratorio, dove il refettorio dei fratelli, dove i locali per accogliere gli ospiti e tutti gli altri ambienti necessari». Ricevuta la benedizione, essi partirono prontamente, e affrettando con il desiderio il giorno stabilito, cominciarono a preparare tutto ciò che ritenevano necessario per accogliere coloro che avrebbero accompagnato il loro così grande padre. Ma proprio nella notte che precedeva l'alba del giorno fissato, l'uomo di Dio apparve in sogno sia al servo del Signore da Lui costituito abate, sia al suo priore, e indicò loro, con precisione di dettagli, il posto in cui avrebbero dovuto costruire i vari locali. Al risveglio si raccontarono l'un l'altro ciò che avevano visto in sogno. Tuttavia, senza dare minimamente peso a quella visione, si misero ad attendere la venuta dell'uomo di Dio come aveva promesso. Ma quel giorno trascorse e Benedetto non arrivò. Allora, rattristati, ritornarono da Lui, dicendo Padre, secondo la Tua promessa abbiamo aspettato che Tu venissi a indicarci dove costruire i locali del monastero, ma Tu non sei venuto. Ed egli rispose Perché, fratelli, perché dite questo? Non sono forse venuto davvero, come avevo promesso? E ad essi che replicavano Ma quando sei venuto? Rispose, Non sono forse apparso entrambi mentre dormivate, indicandovi con precisione il posto dei singoli edifici? Andate dunque e costruite ogni ambiente del monastero secondo la visione che avete avuto. All'udire questo essi furono pieni di meraviglia e ritornati sul posto costruirono tutti gli ambienti secondo le indicazioni avute in sogno. Pietro Vorrei che Tu mi spiegassi come l'uomo di Dio abbia potuto recarsi così lontano e dare disposizioni a quelli che dormivano e inoltre come essi abbiano potuto udirlo in visione e riconoscerlo. Gregorio Perché rimani perpresso, Pietro, esaminando l'ordine di svolgimento dei fatti? È senz'altro fuori dubbio che lo spirito è per sua natura più mobile del corpo. Sappiamo infatti con certezza e la scrittura lo attesta che il profeta fu sollevato in alto e dalla Giudea fu in un batter d'occhio deposto in Caldea col suo pranzo e che dopo aver ristorato con quel cibo un altro profeta si ritrovò all'improvviso ancora in Giudea. Se dunque in un solo istante il profeta Abacuc potè recarsi così lontano con il corpo per portare il cibo a Daniele perché meravigliarsi se al Padre Benedetto fu concesso di recarsi in spirito ai fratelli mentre dormivano per indicare ai loro spiriti ciò di cui avevano bisogno? Come il profeta andò con il corpo a portare un cibo corporale così il nostro Santo si recò in spirito a curare l'istituzione di una vita che riguarda lo spirito? Pietro le tue parole e te lo confesso quasi con un tocco di mano hanno cancellato ogni dubbio della mia mente ma ora vorrei conoscere com'era quest'uomo eccezionale nel suo parlare ordinario. Sia rodato Gesù Cristo in nomine Patris et Fili et Spiritus Santi Amen Grazie a tutti